Uovo Farina Una volta incorporata bene la farina ci aggiungiamo il latte Ora procediamo alla cottura delle carte Una rocce di burro Grazie 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 Ora ci andiamo a tagliare le crepe. Ora procediamo ad impurrare la pirofina. Ora procediamo ad impurrare la pirofina. Ora procediamo con la salsa aurora. Ora procediamo ad impurrare il pomodoro e un filo di panna. Facciamo abbassare il pomodorino nella padella. Un filo d'olio. Questa è la buccia della melanzana tagliata di julienne molto finemente. Ora procediamo con la condizione del piano. Questa è la buccia della crepe. Questa è la buccia della crepe. Ora procediamo ad impurrare il pomodoro. Questa è la buccia della crepe. Questa è la buccia della crepe. Questa è la buccia della crepe.